a tutto camper, a lingotto, è finita e quindi a questo punto possiamo capire bene come è andata ma anziché i bla 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 a parer mio secondo me cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto ai visitatori abbiamo andato in giro personale con tablet a chiedere ai visitatori allora, che ne pensate? Come è andata? Perché siete venuti? cose del genere, belli, chiari, tosti e via andare e quindi queste sono le risposte vi piacciono, non vi piacciono, le condividete, non le condividete ci frega niente, perché questo è quello che dicono i visitatori della fiera di a tutto camper vi piace? Bene! Non vi piace? Non ci interessa perché comunque è la voce del popolo sono loro che hanno pagato il biglietto, sono loro che hanno ragione perché loro sono il mercato andiamoli ad ascoltare, via! prima domanda che abbiamo posto è stata è stata la prima volta che vieni a tutto camper? sì? no? è già venuto lo scorso anno no? è il terzo anno perché ricordiamoci che c'era stata una per fiera non so, non rispondo e qui i dati ve li potete vedere voi non devo certo essere io seconda domanda quest'anno sei siete già stati al salone del camper di Parma? ed ecco le risposte noi dobbiamo far vedere non dobbiamo dirvi niente le vedete voi sia sul grafico a torta che su quello ad anello come preferito lo ha secondo i gusti terza domanda cosa siete venuti a vedere principalmente? camper, caravan, accessori altro curiosare un po' di tutto non so non rispondere poi passiamo alla quarta per chi ha risposto camper o caravan roulotte cercavate un nuovo oppure un usato e qui abbiamo messo nuovo modelli del 2019 nuovi della stagione precedente o chilometri a zero pronta consegna usato altro conoscere vedere un po' di tutto non so e attenzione perché qui è molto importante perché se vedete qui è chiaro non sono degli imbecilli non sanno che modelli 2019 ce ne saranno pochi o quasi niente non gliene frega niente tanto questa è gente che viene in una fiera locale perché vuol vedere i modelli nuovi possibilmente della stagione passata perché così sono in pronta consegna magari è gente che già a Natale già al Ponte dei Morti lo vuole usare no? beh Ponte dei Morti è un po' difficile però per dire lo può usare all'otto di dicembre per dire quindi questa è gente che già sa è già informata ha già le idee belle e chiare siamo nell'era della comunicazione dopo tutto no ultima ma non ultima ah ah sei rimasto soddisfatto? e anche qui sì molto sì abbastanza non molto per nulla non so non rispondo quindi sappiamo già quanti sono quelli che l'anno prossimo ad esempio non verranno no non lo sappiamo perché è uno può anche non essere soddisfatto ma decidere comunque di venire uno invece può essere così tanto soddisfatto che ha comprato il mezzo e quindi l'anno prossimo non ci viene uno invece è soddisfatto ha comprato il mezzo e l'anno prossimo viene per gli accessori cioè non possiamo saperlo non possiamo sapere è troppo presto per sapere se uno veramente verrà l'anno prossimo e quindi la stessa domanda verrete l'anno prossimo? non l'abbiamo fatta perché è perfettamente inutile ok? e adesso a tutti quelli che volevano dei numeri dati certi perché le chiacchiere stanno a zero e i numeri sono numeri eccoli qua ve li abbiamo dati eh Santa News Camp grazie a tutti